Il populismo ha delle lontane origini, nel senso che in realtà ci sono tracce di populismo anche in tacito o in storici legali che ricostruiscono persino la storia dell'antica Iglesia, in qualche modo persino i tribuni della plebe, se per certi aspetti si muovono su dei terreni che potrebbero definirsi populisti, laddove di fatto applicano, senza saperlo, una dinamica e una teoria che guarda a caso poi a cavallo tra il XIX e il XX secolo si trasformerà effettivamente in populismo. Sostanzialmente, in due parole, il confronto e lo scontro tra il popolo che ha ragione e il cento dominante che ha torto. È naturalmente una definizione assolutamente imprecisa, e più precisa è questa, cioè l'idealizzazione del concetto di popolo permeato da valori positivi e tradizionali da contrapporare gli indominanti, considerati difettose, corronte ed egoiste. Cioè da un lato questo popolo è il meglio che la nazione può produrre, è il meglio perché sovente è legato a tradizioni, quando dico nazionali intendo particolarmente nazional-ruraliste legate soprattutto alla terra, ed è un concetto quello di terra molto in simbiosi con il populismo. Ci sono moltissimi casi in cui il rapporto populismo-mondo contadino è un rapporto praticamente quasi indissolubile. Lo stesso populismo russo di cui parlerà appunto la professoressa Giulia Rani, che è la nostra esperta di Russia e di storia russa e dell'Europa dell'Est, lo stesso populismo russo è un populismo legato alla terra. La produzione, la diciamo trasformazione del populismo, di quel movimento cosiddetto narodnico, come veniva chiamato, nato intorno all'età dell'Ottocento, in partito politico, cioè nel partito socialista rivoluzionario di Russia, che era il più potente partito. Tutti pensavano ai Bolsheviki, magari qualcuno ai mei Bolsheviki, nell'uno o nell'altro erano forze trainanti come lo erano i sociali rivoluzionali. Il partito social rivoluzionario è fino a tutto di ciò che è il principale partito della Russia, già a rivoluzione di febbraio e ottobre, compiuto. Ed è un partito che basa la sua stessa ragione d'essere sul mondo contadino. I segliaci li chiamavano anche noi in serbe, il segliacico, cioè il contadino, l'essere legato alla terra e far sì che la terra diventasse parte integrante della famiglia e della nazione. Perché la terra? Perché il contadino rappresenta il produttore, il lavoratore, innanzitutto il produttore, colui che di fatto scandisce la propria vita su ciò che c'è di minimo indispensabile. Si alza con la luce del sole, all'alba va a letto con il tramonto, si occupa del terreno, si occupa della famiglia, mantiene unita la famiglia ripetendo una serie di riti che in qualche modo la cementano e ovviamente ha un rapporto con la religione profondissimo che deriva addirittura dal paganesimo e in ogni caso dalle idolatrie precedenti ai cristianesti, alla cristianizzazione. La madre terra, la madre natura, quante volte si sente parlare di madre terra come di madre Russia, ma la madre Russia nel populismo russo è anche madre terra nei racconti e nei disfaci e negli scritti dei populisti dell'Ottocento. Dunque il rapporto con la religione, il rapporto con la famiglia e con lo Stato, no, con lo Stato non c'è un particolare rapporto, lo Stato è lo Stato che domina. Dunque valori positivi e tradizionali sono quelli incarnati dal popolo e i valori negativi dove stanno? Nei ceti dirigenti, nelle classi dominanti, ceti è un termine sbagliato legato a un periodo storico precedente all'età contemporanea. Chiamiamoli strati dominanti, elite dominanti, classi dominanti. Insomma, quali sono queste classi dominanti per i populisti? Sono di fatto una borghesia che è andata a rafforzarsi e si è inventata la democrazia nel senso di democrazia rappresentativa. Insomma, chi è il nemico principale del populista? Ovviamente il sistema liberale democratico parlamentare, che è un sistema che ha di fatto rappresentato la nascita di quella che un grande populista come Mussolini, ad effigare dal punto di vista storico, ha definito la plutocrazia. In realtà il termine plutocrazia è un termine più antico di interfascismo, già è stato introdotto proprio ai tempi del populismo, non si. Plutocrazia, governo del denaro, governo del capitale, sono i banchieri, sono i finanzieri, sono coloro che detengono il potere economico a essere un vertice della nazione e lo fanno attraverso il criterio, diciamo anche l'imbroglio, delle elezioni, del suffragio. Plasmano il popolo, ignaro e il vecile e lo trasformano in massa elettorale che servirà agli scopi dell'elite stessa. Andare al potere e lì rimanerci, oppure essere confermata al potere e fare in modo che naturalmente tutti gli affari che riguardano quella particolare classe politica, e scusate quella classe sociale che è detta al potere, c'è appunto la classe plutocratica, la classe della borghesia imprenditoriale, possa rimanere tardi. Il populismo, vabbè qui l'ho trovato, l'ho dovuto mettere insieme anche un po' di immagini all'ultimo momento, insomma questo è un esempio francese, no? Recentissimo di populismo, questa serie di declinazioni che vede poi alla fine in qualche modo un concetto di profitto, tutti partecipiamo ma alla fine sono loro quelli che ne approfittano, sono loro quelli che troveranno il loro successo, la loro fortuna con il criterio democratico. Quindi le caratteristiche principali? Innanzitutto no alla democrazia rappresentativa, la democrazia rappresentativa è proprio quel cavallo di troia della classe dominante per mantenersi tale o salire al potere, voi direte ma insomma se la democrazia rappresentativa si basa sul principio del suffragio universale le classi possono essere, cioè le classi dominanti possono essere disagionate attraverso un voto, no? Vi dice il populista, alla fine tutti sono uguali, alla fine non ci saranno partiti di un tipo o dell'altro che si contrapporranno per dare più potere a quell'animo puro, tradizionale, sano del popolo ma sarà sempre comunque una lotta, una specie di guerra civile all'interno di quella borghesia urbana liberale che si è formata tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, insomma le regi della rivoluzione borghese del XVIII secolo. Costoro si dividono in varie forze ma alla fine comunque in qualche modo mantengono una loro unità di intenti e quelle forze cosiddette extra democratiche all'estrema destra o all'estrema sinistra ti dicono i populisti alla fine state attenti perché nascondono comunque i interessi sempre di una casta e non rappresentano gli interessi del popolo. Poi vedremo come ha detto il dottor Rosati quanto invece gli estremismi e anche il totalitarismo andranno a utilizzare il populismo e a sovrapporsi con il populismo. Però il concetto di base è che il populista puro è uno che combatte la politica, è la famosa antipolitica, la politica dei partiti ma combatte anche quelle forze istane al Parlamento, al sistema democratico perché le considera comunque ipocrite se non addirittura dannose proprio agli interessi di quella classe di riferimento che è la massa della gente o del popolo o della plebe a seconda dei periodi storici sappiamo che c'è stata la plebe, poi c'è stato il popolo, adesso c'è la gente talvolta si citano anche i cittadini ma già al termine potrebbe evocare qualcosa di troppo borghese, di troppo 1789 per certi populismi. No alla democrazia rappresentativa che rappresenta quindi lo strumento con i quali i ceti, i gruppi dominanti mantengono la loro forza, sia la democrazia plebiscitaria, l'alternativa alla democrazia rappresentativa è il plebiscito, facciamo parlare il popolo. Questa è una frase che verrà ripetuta tante volte, se voi vedrete soprattutto nel Sud America quante volte, io vi faccio vedere qui la foto sotto vabbè è intuitivo, Piazza Venezia, Mussolini che parla al popolo, un diretto rapporto, questo è un rapporto proprio di tipo quasi fisico tra il leader e il popolo, non c'è in mezzo nessuno, non c'è in mezzo, no ovvio che non c'è in mezzo nessuno perché sarebbe con un pallor aereo statico probabilmente, con un pallacaduto, intendo di averlo figurato qui non c'è qualcosa intermedio, non ci sono degli organi intermedi che mediano tra questa massa di pecoroni e quello che sta lì, non c'è, non c'è una fase intermedia che poi porterà, insomma se qua ci fosse Tata Renna invece di Mussolini qui avremo in mezzo tutta una serie di organismi intermedi per capirci, qua invece abbiamo, e probabilmente la storia sarebbe andata un po' diversamente se ci fosse Tata Renna, qua invece abbiamo il popolo e abbiamo i leader, ecco quindi un rapporto così che è anche un rapporto così, e non faccio un riferimento con la spesa perché Edith Aperon aveva una grandissima simpatia nei confronti di Mussolini, era un'ammiratrice di Mussolini, come ben più che ammiratore era suo marito però, e Guandomino, ecco questo appello al popolo che il peronismo incarna, questo continuo chiamare all'appello al popolo contro chi, contro i poteri che ci sono stati o che ci potrebbero tornare, è uno dei punti di forza del populismo, il peronismo è una delle principali delle nazioni sulla delle carri del populismo, però non si, pensateci bene, nonostante il fatto che si sappia quanto abbia aiutato non soltanto il fascismo ma persino il nazismo, anche nella sua fase diciamo di rotta dopo la guerra, pieno di nazisti che sono finiti in Argentina, non è un caso, non solo per il clima, non solo perché c'era un'antica emigrazione tedesca prebellica, ma perché peron gli apre le porte, gli ha braccio aperto e lo accoglie, li accoglie, ma a parte questa ovvia, questo ovvio dato storico, peron non lo possiamo inquadrare con tutta questa facilità purtroppo, purtroppo nel senso che è molto complicato lo studio di peron, perché è un personaggio talmente quasi meta-ideologico da trovarlo un po' dappertutto, Mao diceva se fossi argentino sarebbe peronista, al contempo peron era l'idolo di gruppi dell'estrema destra europea nel 50-60 e ancora quando torna paradossalmente nel 73, l'ultimo peron, questa è già morta e sepolta, c'ha l'altra moglie, quando torna mi pare nel 73 peron viene accolto, guarda a caso, con slogan e con espressioni di entusiasmo, tanto dall'estrema sinistra, parliamo dell'Italia, dai gruppi extra parlamentari, quanto da quelli di estrema destra, peron è sopra tutto questo, eppure poi praticamente è un dittatore nero, tra virgolette. Prego. Un po' come oggi funziona con Putin? Sì, ma Putin è un problema, è un po' più complessa la figura di Putin, non lo vorrei io personalmente classificare già nel populismo, certo, ovviamente gli strumenti che Putin utilizza, da parte quelli che servono per togliere di mezzo agli avversari, sono strumenti, sempre che l'abbia fatto lui e non l'abbia fatto la fidanzata, adesso proprio entravo nel gossip quasi, o nella cronaca nera russa, però ecco gli strumenti che utilizza sono spesso strumenti populisti, mi venrebbero in mente altri personaggi, più che Putin, almeno quelli che sono già stati risolti dalla storia, questo per esempio è a slovo da Milojevic, ecco Milojevic era un tipico esempio di populismo, tant'è che anche egli in qualche modo si fa fatica a collocarlo ideologicamente, ex comunista, socialista, eppure alleato dell'estrema destra, un uomo che in realtà non aveva problemi a rivolgersi al popolo e solo al popolo, esautorando il Parlamento, esautorando la Corte Costituzionale, Presidenze, eccetera. Comunque sì, Putin, ne parlerete, Putin in qualche modo si avvicina, più che Putin mi verrebbe in mente il duo Chavez e l'attuale Presidente e suo successore in Venezuela, quello è un esempio di populismo compiuto, e ne parleremo magari. Comunque tutto chiaro con la risposta. democrazia plebiscitaria, rivolgersi al popolo, c'è un problema? Sarà il popolo a decidere, lo convochiamo e devono decidere sì o no su questo punto. Il plebiscito, valate bene, non è proprio il referendum, da un punto di vista formale probabilmente sì, alla fine si convoca il popolo a giudicare, a decidere una particolare linea, ma una particolare legge, cioè questa legge la volete abrogare, non la volete abrogare, noi abbiamo questo sistema costituzionale, come sapete, perché abbiamo anche il caos che si è del no, quando siamo favorevoli dobbiamo votare no, quando siamo votati dobbiamo votare sì, questo non è a noi entrato in testa, pensate a quelli due generazioni prima della vostra, sono andati nel pallone nel 74 con il referendum sul divorzio, perché chi votava a favore del divorzio, doveva votare no, chi votava contro il divorzio, votare sì, però a di là di questo aspetto, questo è il referendum, quello che invece è il plebiscito, che ripeto è sempre una chiamata all'appello, è chiedere al popolo carta bianca, questo è il concetto di fondo, plebiscito vuol dire farsi applaudire per ogni cosa, attraverso magari anche una comunicazione il più possibile demagogica, ne parlerete ovviamente, è stato ripetuto dal vostro curatore, è la comunicazione il più semplice, demagogica è, utilizzando parole molto facili da comprendere, Mussolini in questo era geniale, anche Hitler devo dire, i ditatori comunisti leggermente più complessi molto più macchinosi, perché forse provenienti da scuole di partito molto faticose anche in termini intellettuali, almeno alcuni di loro, mentre invece Mussolini e Hitler essendo self-made man, uno con letture arruffate e confuse, l'altro Hitler probabilmente senza letture, salvo un determinato scaffale della biblioteca, no, di vidi dei suoi vari paesi e città, evitano tutto il discorso intellettuale, parlo direttamente al popolo con linguaggio semplice, quante volte avrete sentito questa frase, quello sì che si capisce cosa dice, perché magari dice delle cose semplici e spesso dice delle cose banali, cose che nascondono dietro un progetto, un programma anche complesso, ma viene naturalmente comunicato in un modo più semplice possibile, attenzione, semplice e semplicista, quello che è il primo finale del leader populista è convocare il popolo e con un paio di frasi chiedere al popolo appunto l'affermazione plebiscitaria, tutto ciò serve a esautorare qualsiasi media, qualsiasi intermedio, il diverso intermedio tra il leader e il popolo. E quindi il leader carismatico è un'altra caratteristica del popolo. Ci vuole un leader carismatico e qui non è che si può troppo pescare nell'ambito del leader politico di quella che può essere l'area di riferimento di quei gruppi dominanti di volta in volta cattolico-democratici, libera-democratici, social-democratici e persino anche negli ambiti più estremi. E' inutile, lì abbiamo a che fare sempre con personaggi con poco carisma, con un difficile carisma, personaggi che prima di parlare pensano. Quindi direi che meglio degli altri sono scegli. No, è il concetto stesso dell'attivismo, prima l'azione e poi l'idea, la posizione antiteoretica dei leader populista non è altro che questo, lasciamo stare le ideologie, lasciamo stare le teorie, andiamo direttamente all'obiettivo. Allora dopo l'azione faremo l'analisi, non prima l'analisi e poi l'azione, questo in termini comunicativi significa prima che nel caso dei leader tradizionali, dei politici, prima di aprire bocca si riflette su quello che si deve dire, si ha paura, si ha anche timore, ci sono forze di coalizione. Il politico tradizionale della Terza Repubblica Francese, quindi 1871-1940, è un politico che parla e non si capisce quasi nulla, perché deve gestire un gruppo di coalizione e quindi deve stare attento a qualsiasi parola perché una parola di troppo potrebbe far arrabbiare quel componente o l'altra. Lo stesso dica sì, non so, per la seconda Repubblica Spagnola, quella della guerra civile. Il confronto tra Franco e i leader e non so, Manuela Zagna, il Presidente della Repubblica Spagnola, un confronto che, presumo che, insomma, non ci siano tanti franchisti qua, ma comunque voglio dire, gioco forza, faccia perderli ai punti a Zagna, che perde anche poi militarmente e politicamente forse a quel periodo. Perché Franco dice, affronta il tema, diciamo, del rapporto col popolo con frasi molto semplici. Voglio ritornare alla tradizione, gli spavidani, la grande Spagna che ci è stata strappata con la guerra contro l'America nel 1898. Io voglio ritornare a quella Spagna, appunto. Quell'altro deve gestirsi tra una coalizione composta da partito comunista, partito socialista, partito radicale, partiti repubblicani, cioè democratici borghesi di sinistra, anarchici fuori, trotschisti. C'è una coalizione immensa. Doveva contemporaneamente dire, difendo la Repubblica nel suo Stato borghese, ma sono anche d'accordo per eventuali collettivizzazioni. Capite? Non si possono mettere insieme due cose del genere. Collettivizzare le proprietà, come volevano gli estremisti, e contemporaneamente mantenere, per tenere in buona la borghesia favorevole alla Repubblica, mantenere un atteggiamento liberale e il più possibile legato alla cornea di mercato. Per riuscire a quadrare questo cerchio, la comunicazione di Manuel Asagna o dei vari presidenti del Consiglio che si alternano durante la guerra civile è una comunicazione difficile. Quando Franco, per non parlare dei leader più populisti di lui, che lo affiancano, farangisti, carlisti, eccetera, con quattro parole ha fatto sentire e battere il cuore di ogni spagnolo, degli spagnoli che lo stavano ad ascoltare, ma non erano i capotti. Pinochet, quando va a potere a Santiago del Cile, fa in fretta, non solo perché fa in fretta militarmente, perché stronca ieri del suo governo, come ben sappiamo, ma anche perché poi dice, io ora faccio diventare ricchi i cileni. Naturalmente il riferimento ai cileni che interessavano a lui, i che minatori del rame su a nord. No, interessava ovviamente una certa borghesia. E allora vi faccio diventare ricchi, finiranno i problemi per voi. Punto. Allende in tre anni ha dovuto praticamente arrampicarsi sui vetri, perché il sistema di coalizione su cui si basava lo Stato democratico cileno era ovviamente, io costringeva a non avere una comunicazione diretta e semplice, se non semplicista, e bisogna non essere più di tanto carismatico. Il leader carismatico invece è fondamentale. Deve essere carismatico innanzitutto nella comunicazione, deve essere carismatico nell'aspetto, carismatico non vuol dire bello per forza, è vita per onner, anche una bella donna, una ballerina, ha fatto anche un po' la vita, sembra, però questi sono problemi suoni. Diciamo che era stata un po' leggera prima di diventare First Lady dell'Argentino, ma sono a fare i suoni. Sicuramente era una donna molto piacente. Mussolini non era piacente, però aveva un suo fascino. Persino Hitler aveva gli occhi magnetici. La forza fisica è virile di Stalin. I dittatori in generale, salvo alcuni casi, possono rappresentare, talvolta un vero è proprio fascino quasi di tipo erotico, qualche volta un fascino legato a una semplice autorevolezza assoluta. Il generalissimo Franco non era certo un uomo molto affascinante, presumo, non me ne intendo, ma credo, però sicuramente una volta che si presentava con tutta la sua, il suo armamentario di grande di Spagna, faceva la sua figura. Carisma quindi nell'immagine, carisma nell'aspetto laddove era possibile, ma soprattutto carisma dal punto di vista della comunicazione e della capacità di tenere soprattutto i risultati che potevano e possono servire a mantenere il consenso. I risultati sono fondamentali, ma non i risultati, non devono essere per forza risultati concreti. C'è un leader populista centroamericano, cosa fa una lotta salita al potere? Per mantenere un esempio molto semplice, un leader populista centroamericano cosa fa una lotta salita al potere? Per mantenere un rapporto con il popolo? Fu c'era ministro delle finanze. Non so se sapete il caso prima, chi era prima? Era nel momento in cui a Milano ci fu una grande insurrezione anche austriaca, alla fine l'obiettivo fu un funzionario delle finanze che fu rinciato dal popolo e gli austriaci lasciarono fare proprio perché facendo così si poteva mantenere buona la popolazione. Allora non è per forza che si deve finire contro il protoneo di esecuzione come all'inciaggio, ma basta che un'operazione, che una scelta compiuta sia il più possibile sponsorizzata, amplificandola fino a farlo diventare l'esempio di un lavoro compiuto. Ci siamo? Io risolvo il problema economico e come vedete vi ho tolto di mezzo colui che è il vero responsabile, lo licenzo e lo uccido. Oppure faccio delle operazioni pertanto demagogiche, che possono però, la demagogia è fondamentale nel populismo, che possono servire però sempre per mantenere il vostro consenso. Poi naturalmente non si va a guardare, non si ha voglia, non si ha tempo, non si ha alfabetizzati al punto giusto per poter studiare esattamente i reali passaggi del governo populista, per capire se al di là del licenziamento del ministro delle finanze e poi qualcosa di concreto sia stato fatto o meno nello Stato. Quando le cose vengono comunicate dall'opposizione più o meno attiva, molti non lo ascoltano neanche, perché sono complessi, sono ragionamenti complessi. Alla fine si anestetizza anche il popolo, si fa in modo che il popolo non abbia conoscenze. Come dicevano i Don Milani, la conoscenza è libertà e quindi tutta la conoscenza non abbiamo più la libertà. Tutto chiaro? Spero. domande. Quindi, no alla democrazia rappresentativa, sia alla democrazia pubblicitaria, presenza di un leader carismatico, individuazione di un nemico, del nemico di tutti. Il popolo deve essere mantenuto il più possibile insieme. Ci muore un nemico facilmente individuabile. Possono essere l'elite, i centri di potere, gli stranieri. A seconda dei periodi storici, l'elite, quelli che governavano la Repubblica Francese, appunto dopo la terza Costituzione, il periodo che vi ho citato, cioè 70-71-1940, ma anche la quarta Repubblica, quella che dal 46 arriva al 58, vede il proliferare, soprattutto nel primo caso, di forze politiche puramente populiste, le quali hanno come obiettivo l'attacco alla classe dirigente. Tutti quelli che sono al Parlamento o comunque che siedono al Parlamento o che sono al governo, sono di fatto nemici degli interessi della Duce France, della Petit France, della Francia augurale, della Francia pure, buone, anche del piccolo borghese che fatica ad arrivare a fine mese per colpa, anche rima, per colpa di una classe dirigente incapace. E quindi, scusate, e quindi l'elite in generale è il nemico. Quando sempre in Francia il generale Rangé tenta, verso la fine del 1980, mi ricordo più, 1986, sì, 1986-86, tenta di creare le commissioni per un colpo di Stato, il suo tentativo si basa su ragionamenti che vanno contro qualsiasi principio democratico, ma soprattutto rappresentativo, l'elite è il nemico. McMahon, prima di lui, tenta questo esperimento e lo tenteranno altri, l'esperimento di mettere il popolo contro il gruppo dominante, considerato affamatore, considerato corrotto, considerato fallace. Se non sono i gruppi certi dominanti, e lo sono spesso, pensate a Hitler, un grande populista, il quale vede nella Repubblica di Weimar la quintessenza in tutti i mani della Germania, nella classe dirigente tedesca, come appunto la quintessenza dei mani tedeschi. Però se non sono, dicevo, i gruppi dell'elite a essere i nemici, lo possono essere i centri di potere occulti, allora si va a cercare un nemico che possa in qualche modo anche spiegare il malessere contemporaneo. Secondo un sondaggio della Friedrich Hebert Stiftung, quindi una fondazione prestigiosa tedesca, compiuta alcuni anni fa, circa il 60% degli ungheresi sostiene che la colpa della crisi è degli ebrei, il 40%, il 45% dei tedeschi, il 50% dei francesi, il 30% degli italiani. Centri di potere sionisti internazionali, quelli che hanno i soldi. Poi ci mettiamo dentro anche un po' di massoneria, male non fa perché gli dà anche quel contorno, come dire, cospirativo, incappucciato, che piace. E allora il composto giudaico-massonico è un ottimo elemento per mantenere vicino il popolo e soprattutto tenerlo nelle mani dell'ir populista. D'altronde è un esercizio di grande pigrizia questo, pensate se io fossi un economista e dovesse spiegare la crisi, adesso ci impiegherei una settimana, se fossi un economista ci impiegherei tre giorni, un giorno, un giorno e mezzo per spiegare tutte le dinamiche e tutti i fattori che hanno portato alla crisi del 2008 del 2010. Capite che dopo un po' vi annoiereste voi, che pure siete degli studenti culturalmente preparati, immaginatevi il popolo minuto, il popolo rurale o il popolo rurale urbanizzato a cui devo parlare e spiegare con degli istogrammi e con delle formule, degli algoritmi per quale motivo ci sono stati questi problemi che hanno portato alla crisi del mondo. E' molto più semplice dire che è colpa di un complotto internazionale che di fatto riunisce alcuni banchieri, probabilmente ebrei, in una loggia con i cappucci, questi hanno deciso tutto e gli stati non hanno potuto fare nulla. Voi direte che non sono fesserie, lasciate stare, sono fesserie che funzionano, se naturalmente non presentate a sciamolate come sto facendo io, ma condite con un po' più di finezza, di complotisti nel pieno mondo. E quindi l'idea di poter individuare con molta pigrizia, ripeto, un nemico facilmente classificabile per spiegare i problemi che si vivono può diventare un ottimo strumento nelle mani del leader populista. Un altro strumento sempre comunicativo poi è quello di denigrare, questo proprio fa parte degli strumenti più semplici che poi saranno elencati a suo tempo. Deligrare il nemico, il nemico è un cretino, il nemico intendo uno di questi gruppi, di queste aree diciamo avversarie, il nemico è un cretino, un lago, un mascazzone, un incapace, un incompetente, un deficiente, si va di sotto diretto, lo sappiamo, l'abbiamo sentito, quante volte il leader populista utilizza il linguaggio filiale, proprio per poter arrivare anche magari nel più profondo bar, nella più profonda delle periferie, nella più profonda delle regioni del paese, per poter arrivare al cuore o altri organi interni del suo interlocutore. Lo straniero è un altro classico esempio di possibile obiettivo, target della comunicazione e anche del consenso verso il populismo. Lo si fa, diciamo, risalire tutta l'origine del nostro malessere. Lo straniero ci ruba il lavoro, lo straniero ci orienta le donne, lo straniero ci uccide i bambini, lo straniero non fa nulla, è ciondola per la strada, ruba. Lo straniero, intendiamo soprattutto l'extracomunitario, ma sapete poi il passo breve dallo scontro, l'odio verso l'extracomunitario all'odio verso qualsiasi straniero. La xenofobia nasce e nasce così, quando si comincia a odiare l'esterno, l'estraneo, quello che sta fuori dal circuito nazionale. La terra, l'Italia e gli italiani, Milano e i milanesi, Berlino e i berminesi, Parigia e i parigini e lia discorrendo. Poi magari si scopre che dal punto di vista religioso Cristo è ebreo, però si viaggia su una macchina giapponese, si va a mangiare il kebab e via discorrendo, quindi siamo circondati degli stranieri in qualche modo nella nostra cultura anche banale, giusto? Però il vicino è l'unico che è veramente lo straniero. Ecco, anche questo è un esempio di populismo che in qualche modo si sta formando soprattutto negli ultimi anni. È uno strumento di cementificazione del consenso e di nuovo è una via molto breve, un bypass rispetto all'analisi più complessa. Se dovesse analizzare il tema della sicurezza risolvendola dicendo basta cacciare tutti gli extracomunitari senza tramesso di soggiorno e risolviamo il problema della sicurezza, andiamo a vedere le statistiche e scopriamo che in questo paese la maggior parte dei crimini viene compiuta, o almeno la metà dei crimini viene compiuta da italiani, quindi tutta più si risolverebbe una parte del problema, però si lascerebbe spazio forse a parte di un'altra. Ma al di là di questi aspetti che non è fuori dal seminato, quindi tecniche di comunicazione, è anche questo, per salvare il rapporto tra ridere e popolo è necessario comunicare e saper comunicare bene. Qua il populismo utilizzano naturalmente tutte le armi disponibili, la seconda è anche dei periodi storici, per cui se nell'Ottocento il manifesto e la manifestazione pubblica erano i principali strumenti, il populista usarà pochi libri e molti opuscoli, fatevene attenti, non ci saranno mai grandi studi populisti, non troverete mai, a parte le opere di regime, l'opera Omnia di Chavez, non la troverete, troverete in Venezuela centinaia e migliaia di opuscoli scritti con un linguaggio se non semplice addirittura elementare, non semplice ma addirittura elementare e saranno questi gli strumenti di comunicazione distribuiti da appositi supporters, perché poi chiaramente il populismo ha bisogno di supporters, poi naturalmente i sistemi invece più recenti che sono i sistemi legati prima alla radio, poi alla televisione, poi naturalmente al web, eccetera, l'obiettivo, il web che è un'arma anche all'oggetario come sappiamo, quindi poi bisogna stare molto attenti, ma ultimamente sta diventando uno degli strumenti principali del populismo, perché il populismo mobilita, deve mobilitare, perché tenete conto che l'altro aspetto, presumo conclusivo di questa lunga lista, è la mobilitazione civile, il populismo deve mobilitare, deve tenere sempre in attività questo popolo nazionale, tradizionalista che sta mettendo insieme, che sta unendo contro la classe dirigente, la quale non è sentita d'accordo, perché io non sto facendo un discorso di chi ha ragione o chi ha torto, probabilmente i populismi nascono anche dall'incapacità della classe dirigente, quindi bisogna stare molto attenti, non è che saltano fuori perché c'è una sciarmura vimmica che dopo le cavallette, le locuste o qualcos'altro, non so, le rane che piovono dal cielo, arrivano anche i populisti, ma no, i populisti nascono esattamente non solo dagli errori delle classi dirigenti, ma aggiungerei che nascono nell'ambio delle classi dirigenti, prima si vive, spesso il populista proviene nella storia da gruppi politici legati alla classe dirigente, ne fuoriesce in polemica e crea il movimento populista, qualche volta capita che il populista nasce come alineo dal buscio di nuovo e salta fuori comunque meglio dal materno, è vero, ci sono anche questi casi, molto rari però, più delle volte il leader populista ha una sua prendistato all'interno del sistema che andrà a combattere, a maggior ragione le responsabilità di quel sistema, che non solo favorisce ovviamente involontariamente la nascita, talvolta anche volontariamente, pensando di poterlo cavalcare, di poterlo pilotare, ma talvolta involontariamente favorisce la nascita del populismo, ma addirittura spesso se lo tiene in seno come un serpente e magari se lo coppola finché il leader populista non rompe e non esce e se ne va dalla parte opposta. Dicevo, mobilitazione civile e quindi vuol dire praticamente mantenere il popolo, quindi il riferimento principale del populista sempre in perenne tensione ideale, bisogna tenere sempre vivo. Qual è la cosa, il nemico pubblico numero uno del populista? Beh, è quello di non farsi più sentire. Nel 1942 non sono in rispetto di parlare, lo chiamano Camerata Mutolini infatti, perché non parlava più, non ha più parlato per tutto il 43 al pubblico, queste robe qui sono cose degli anni del 36, questa è la donata del 9 maggio per il 36 per per la proclamazione dell'impero italiano d'Etiopia, ma lui da nel 42 fino al 42, 43, non parla più. Quando parla non è che può più dicare le cose particolarmente utili per lui, perché il primo grande intervento pubblico che fa, a parte le varie vicende di regime interno, è il famoso discorsetto del 25 luglio, quando bofonchiano o tre frasi per dire avete messo in crisi il regime e di fatto non fa nulla neanche per intervenire, per evitare il colpo di Stato, è un personaggio che evidentemente ha perso quella d'apporto tra popolo e leader, ma come lui tanti altri, anche leader, attenzione, noi pensiamo sempre di leader il dittatore, no no, tanto a te, parlo anche di leader politici, leader politici magari legati a partiti che magari non diventano neanche partiti di potere, perché il populismo può anche rimanere un fenomeno se non marginale, comunque marginalizzato dalla politica, però comunque anche questi leader minoritari devono continuamente dire qualcosa, si dice che Mette Grillo sia un populista, lui stesso in un suo blog ha messo orgogliosi di essere populisti, adesso non mi ricordo che frase abbia messo, quindi si autodefinisce populista, quindi non è nessuno definito tale, beh, per Grillo quante volte io ho degli amici che votano Grillo, nessuno lo fa in modo particolarmente convinto, ma insomma lo fanno per evidenti motivi di protesta, attenzione, la protesta è un altro grande carburante del populismo e ultimamente c'è stato un appannamento diciamo di Grillo, soprattutto con la salita, l'affermazione di Matteo Renzi, che alcune voci definiscono per esempio leader populista, attenzione, sia chiaro, tanto per fare un pochino di, e peraltro anche Berlusconi, quindi come vedete sono molto, a questo punto tripartisan, quindi oso sono tutti, non è nessuno da qualcuno, lascia voi la scelta, beh, comunque l'affermazione di Matteo Renzi ha appannato Grillo, che parla un po' di meno, forse anche per altri motivi, adesso non voglio entrare nello specifico Grillo, beh, questo è un cane che si morde la coda, e anzi direi che è addirittura un effetto balanio, tanto più Grillo non parla, tanto più perde il consenso, è fondamentale anche questo, e tutti i leader dei populisti del passato hanno dovuto mantenere alta la tensione ideale, ma soprattutto alto il rapporto, il rapporto doveva essere continuo, non ancora in taternata, con i loro interlocutori e quindi il posto. E abbiamo già parlato della caratteristica del tradizionalismo, e quello è molto importante perché ci sono esempi molto interessanti di movimenti populisti che si sovrappongono anche a movimenti politici. Io sono uno studioso di Balcani e soprattutto di Jugoslavia, in passato almeno me ne sono occupato particolarmente, e recentemente ho rivisto un po' di vecchie carte e di fotocopie che non ho potuto, con tiri di tempo, trasformare in video, in slide, ma è interessante, ve lo racconto perché nel 1941 la Jugoslavia viene invasa dai tedeschi e dagli italiani, dall'asse, cade il governo reale jugoslavo, va in esilio, si forma un governo Quisling, quindi un governo collaborazionista a Belgrado, mettono il capo di questo governo generale, che è l'ex ministro della guerra, Milan, Nedic, che è un po' l'equivalente serbo di Peterni, quindi collaborazionista pur. Una caratteristica, c'è un bellissimo volume pubblicato anni fa a Belgrado, dei manifesti dell'epoca di Nedic, che dura dal 1941 al 1944, in questo volume si scopre il soggetto preferito di Nedic e dei suoi collaboratori, il contadino serbo. Ogni volta che doveva dimostrare nel manifesto che c'era questa piccola nazione, nazione, a sovranità stranimitata, più come andare nei tedeschi, ma è stata quella che lui si definiva stato serbo, lo chiamava così, stato serbo, come lo stato francese di Vichy, no? Quindi senza neanche più concetti né repubblicani né monatici, stato serbo. Sveva piccolino e doveva in qualche modo protetto dall'alleato fatelo maggiore tedesco, potete immaginare i serbi come erano contenti di essere protetti dai tedeschi, e contrapposto ai grandi nemici. Per dimostrare questo il populista Nedic che cosa fa? Fa vedere e rappresenta non la Serbia con il vecchio guerriero medievale tipo Principe Lasic, quello della battaglia del Kosovo nel 1389, quello che ha combattuto perdendo contro gli ottomani, no? Ne fa vedere un generale, non so, della prima guerra mondiale, tipo Unic, che era il capo del stato maggiore dei serbi durante la grande guerra, e neppure fa vedere che, ne so, è un poeta o un personaggio legato alla tradizione serba più antica, né tantomeno un monarca, e ce ne sono di monarchi serbi che si possono venire fuori, tutti anche abbastanza eroici, gente che combatteva, erano monarchi complessivamente abbastanza bellicosi in quelli serbi, eh, mica come il nostro, il nostro è un direttore maggiore terzo, diciamo un po' più politico, ehm, no, no, fa vedere un contadino, con le maniche di camicia rimboccate, con degli avambracci che sono così, con delle maniche che sono praticamente dei trattori, e con la barba in mano, e con questo sistema, con queste armi, armi fisiche, armi strumentali, diciamo strumenti, lo vedete sul ergersi su uno sola, la, una montagna, eh, davanti a Belgrado, ah, il Calameddano, la montagnetta di Belgrado, a combattere contro questi mostri che provengono dall'Unione Sovietica, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, ecco il contadino, quindi quell'immagine, mi spazio non farvela vedere, ma quell'immagine è probabilmente la quintessenza del concetto ruralista, del populismo, c'è questa idea per cui bisogna ritornare alle origini, eh, perché quella è la parte buona della nazione, non tutto quell'orpello borghese, liberal democratico, ovviamente giudaico-massonico, che ha in qualche modo infettato l'essenza stessa del popolo, che è un popolo buono, è un popolo semplice, è un popolo che, come dicevo all'inizio, è scambito dagli orari biologici ben precisi, non ha grilli per la testa, qual è l'immagine che ancor meglio potrebbe figurare nei tempi dei telefoni bianchi, Mussolini concede la proiezione di numerosissimi film, che poi avranno un successo superiore di quelli propagandistici, dove poi alla fine spesso c'è questa rappresentazione di un popolo minuto, semplice e buono, e guarda caso i borghesi, con cui Mussolini peraltro fa ottimi affari, che vengono rappresentati con il massimo possibile della spocchia, anche della perversione, dell'aberrazione, sono gente cattiva, sono ricchi, sono in qualche modo sbagliati nell'ordinamento sociale, mentre il buono è rappresentato dal semplice e onesto lavoratore che può essere un piccolo borghese, una impiegata, quella che lavora ai telefoni, come la ridavano in un celebre film, al centralino telefonico, piuttosto che la figlia di un contadino trasferita disgraziatamente in città e naturalmente è finita in mano a questa banda di rapaci pubblici borghesi eccetera, sono tutte forme di populismo, dunque il tradizionalismo, il tradizionalismo che diventa anche religioso, religioso e localista, localista perché poi è la Heimat, non la Vaterland, quello che interessa al populista, c'è una bella differenza in tedesco, entrambe vogliono dire patria, Vaterland, terra dei padri, Heimat, come la traduciamo? casa mia, il luogo di origine della famiglia, non c'è una traduzione alternativa a patria, ma è una piccola patria la Heimat, la Heimat che è anche il nome di un bellissima serie di telefilm sulla strada della Germania che vi consiglio di vedere, si chiama proprio Heimat con l'H-E-I-A-M-A-T, Heimat è la terra dove sono cresciuto, è la terra dove sono sepolti i miei padri, i miei nonni, dove il mio trisnonno ha fatto la casa, ascoltate un passaggio del film via col vento, le frasi che dice Rossello Hara quando parla di Tara che è la meravigliosa maestosa villa fuori Atlanta dove lei vive che ve l'ha distrutta durante la guerra di secessione, lei parla di quella come la patria, il libro è ancora più interessante, la patria non sono gli stati confederati d'America, la patria è Tara, è il posto dove si è nati, dove sono nati i genitori, dove sono nati gli antenati, dove tutti piano piano hanno costruito un pezzo di patria, ma tutto circondato dal proprio steccato, anche se gigantesco e non il possedimento, ancorché gigantesco quella è una patria piccola, ecco Heimat è quello che interessa al populista, ognuno deve avere il proprio interesse, deve difendere il proprio spazio, spesso il populismo cozza quindi contro l'idea nazionale, guardate bene, questo è forse il piccolo portocircuito che si forma tra estrema destra e populismo almeno negli anni passati, forse ora come ha detto il Dottor Rosati si sta giungendo a un'effettiva compenetrazione tra due fenomeni, ma per molto tempo il populista faceva riferimento agli interessi il più locale possibili, che chiaramente non potevano essere coincidenti con il deviatano di una nazione, che ha questo passaggio? Poi effettivamente le cose sono cambiate e naturalmente ci sono stati grandi dei miordi, ma che grandi alchimisti, come Mussolini che sono riusciti con Hitler a unire Heimat e Vaterland, patria e piccola patria, a riuscire a mantenere nello stesso calderone entrambi i concetti, quello della proprio interesse e quello dell'interesse collettivo, naturalmente un interesse collettivo condiviso perché benedetto la vita è il populista stesso. E poi c'è il tradizionalismo religioso, anche questo fa parte, qui è soprattutto una discriminante, la religione può diventare la discriminante rispetto a tutti gli altri, ma è anche la quinta essenza della tradizione, perché è rituale e il rito è tradizione, tanto più si è rituali, tanto più si mantiene la tradizione e il rito è la base di ogni religione, senza rito non c'è religione, è inutile. Certo si può ridurre al minimo il rito, come i protestanti, ma deve esserci anche lì. Può essere anche il rito collettivo di quelle congregazioni protestanti che semplicemente si uniscono in una sala come questa, in un ambiente che diciamo che è molto lontano dal coronato del Bernini, no del Canò, del Cellini, a Piazza San Pietro, del Bernini, ecco sì, del Bernini, ma è comunque sempre un ambiente nel quale comunque si esercita il rituale. E il rituale può essere semplice ma importante, rituale uguale tradizione, religione uguale tradizione, populismo uguale religione, o meglio, popolismo uguale, diciamo, scuola, pensiero politico che vede nella religione uno strumento fondamentale per mantenere viva quella tradizione che è solo un antecedente unificante di un popolo che diventa interlocutore del popolista stesso. Ecco allora per esempio un'immagine, questa è serba, ecco un'immagine che ho trovato proprio lì per lì, è un dipinto nel Museo di Belgrado, c'è questo bellissimo dipinto che racconta la storia di un famoso leader, diciamo, anti-ottomano negli anni che poi è cara a George, Giorgio Nero, il primo che è il primo leader, diciamo, della Serbia ottocentesca contro, dei primi dell'ottocento contro gli ottomani. Come vedete qui abbiamo tutti, c'è il principe, alla sua destra che abbiamo, il popo e ortodosso, anzi questo deve essere addirittura giudicato dai parametri anche patriarca. E poi abbiamo dall'altra parte dei soldati ovviamente, comunque della gente che ha combattuto, ma anche dei contadini, gente vestita con abiti semplicissimi, guardate questo, questo è tanto panche, sono delle cioce praticamente, gente povera, intorno c'è tutto, c'è il popolo contadino, c'è il popo ortodosso, religione, ruralismo e tradizione nel senso nazionale del termine, cara a George, il primo principe che combatte contro il nemico. Quindi la nazione, la religione, il popolo contadino insieme fanno la forza. E naturalmente un altro esempio è la Vichy di Petain, qua non lo vedete da vicino ma qua abbiamo un pescatore, un allevatore di mucche, un contadino, qui c'è anche un fabbro, ma attenzione non è che vuol dire che il populismo sia solo ed esclusivamente rifaggio dei contadini, non è un movimento contadino, vede nel ruralismo un interlocutore, tanto che il mondo contadino è un mondo che effettivamente può dare un'unità di manovra abbastanza bassa, nel momento in cui si giunge alla industrializzazione, all'urbanizzazione, il riferimento sarà che cosa? Un ceto contadino, un ceto contadino urbanizzato. E questa è una caratteristica assolutamente basilare, lo dice Bruno Giovanni, del Sud America, da dove i movimenti populisti si basano proprio su questo e parlano sì a un ceto urbano, fatto di operai, lavoratori di vario genere, talvolta anche borghese, anzi spesso borghesi, piccolo medio magari, ma questi hanno delle origini contadine abbastanza prossime e una cultura urbana molto approssimativa e si può quindi evocare in questi personaggi quelle tradizioni appunto dei nomi o dei padri che li legano all'ambiente rurale abbandonato. Insomma, non a caso uno dei movimenti populisti più famosi del Sud America, l'APRA, che è l'alleanza popolare rivoluzionaria peruviana, che si trasforma poi in un movimento socialdemocratico, ma che inizialmente è puramente populista, fa riferimento addirittura alla cultura inca, quindi proprio non solo a una tradizione contadina, ma a una tradizione pre-colombiana, ma è riferimento poi alla fine a un ceto urbano, ripeto, urbanizzato più perubano. Difficilmente il populista riuscirà a colpire settori sociali già ampiamente, come dire, infarciti di cultura illuminista e quando lo farà sarà naturalmente dopo che avrà già ottenuto un vasto consenso al tolore e ovviamente per tutta una serie di fenomeni evitativi poi alla fine anche i ceti che fino a quel momento sono stati esclusi cominceranno alla linea. Comunque come vedete qua tra i vari soggetti, non li vedete ma ve lo dico io, tra i vari soggetti c'è una madre con un bambino, anzi tre bambini, ci sono intorno a veramente alle fasciò, quindi alla scia di penne il simbolo dello stato di Vichy, questo è il maresciallo Petain, ovviamente lavoro, travai, famiglia, patria, lavoro, famiglia, patria, altro che libertà, guaglianza e fratellità. E poi qua abbiamo, non so perché un pescatore, ma probabilmente rappresenta appunto quella d'usfranza, la chartrenais che in qualche modo viene con capo a uno chartrenais che non era neanche con Vichy, però insomma quelle canzoncine un pochino melense di quegli anni che raccontavano appunto questa Francia assolutamente pacifica, profonda, lontana dallo scorcio di Parigi, lontano dallo scorcio di Parigi, quella Francia dei piccoli paesini, la Francia del Papa Florantin che suona la fisarmonica davanti all'osteria dopo essere andato appunto magari a pescare. E questi sono degli esempi di populismo diciamo. Ma andiamo più nello specifico e concludiamo con gli esempi più prossimi, così vi introducono anche ai prossimi giorni. Allora innanzitutto abbiamo detto il populismo russo. Populismo russo è un fenomeno, vi consiglio il libro di Franco Venturi sul tema, ma anche i lavori di Bon Giovanni sono buoni, però devo dire che Venturi ha individuato ancora meglio il fenomeno del populismo. No, ancora meglio, diciamo è uno storico, è uno storico, mi pare che Bon Giovanni sia uno scienziato della politica, quindi hanno due regioni diverse rispetto, non diverse da Chico e comunque due punti di partenza. Il populismo russo è un fenomeno che nasce alla metà dell'Ottocento e si caratterizza proprio da queste caratteristiche che vi ho già elencato. Il riferimento è a un popolo contadino quintessenza della straordinaria purezza della Russia. Gli scrittori russi del periodo sono tutti molto legati al mondo contadino, come sappiamo. Già nel tempo in Italia Stoi noi abbiamo una grande attenzione al mondo contadino. Dostoevsky è più un narratore di cortesia, ma dopo abbiamo alcuni, dopo ci sono diverse esponenti anche dell'intelligenza russa che hanno nel mondo contadino un riferimento. Il movimento populista pone questo popolo contro il potere. In questo caso il potere è forte, questo forse è l'elemento che distingue il populismo russo dagli altri populismi ed è più da citare, credo, ma lascio poi la parola la professoressa Rami per questo perché è il primo movimento che si definisce così e gli altri in qualche modo si ispirano adesso. Tuttavia il problema è che l'interlocutore, anzi il nemico del populista russo è un'autocrazia sanguinaria priva di qualsiasi rapporto con il proprio popolo. Semmai potremmo parlare di una gara, di una concorrenza, se di rapporto gli zar avevano sempre di tipo paternalista con il popolo, allora potremmo dire che negli anni del populismo c'è uno scontro tra paternalismo, zarista e populismo. Da un lato quindi lo zar che governava il proprio greggio come se fossero dei bambini deficienti e dall'altra parte un gruppo di intellettuali che cerca in qualche modo di elevare questa massa, però distinguendola badate bene a livello culturale da qualsiasi influenza esterna, da qualsiasi influenza occidentale. Questa è la caratteristica principale del populismo russo credo, ovvero sia il fatto che si cerchi una via russa all'emancipazione, non una via francese. L'idea cioè che si debba importare in Russia gli immortali principi del 1789. Non funziona nel concetto del populismo russo, è per quello che qui abbiamo non più un localismo, ma qui sì che abbiamo già una compenetrazione con l'idea di nazione. Una nazione russa, una nazione che non abbia nulla a che fare con gli altri mondi, che sia autonoma e autoctona nella formazione di un mondo nuovo. È molto importante questo aspetto perché come il vostro collega prima ci ha suggerito con la domanda che ha fatto, Vladimir Putin sta cercando di proseguire su questo termine. La Russia non deve più scendere a compromesso con altre culture perché già la propria è una cultura più che sufficiente e soprattutto che non ha nulla da migliare a nessun'altra. Cultura nel senso letterario del termine, cultura quindi nel senso lato del termine, ma anche cultura politica, storia. Se andaste a vedere alcuni scritti di alcuni esponenti vicino a Putin scoprite che spesso il ragionamento che ricorre è che la democrazia, come la intendete voi, è una cosa, ma noi lo intendiamo in un altro modo. Dice molto di populismo. Il populismo poi avrà delle trasformazioni. Alcuni populisti finiranno per essere in qualche modo investiti da quella che è invece una caratteristica della seconda metà dell'Ottocento che è il nichilismo e quindi questa forma di anarcho-individualismo, l'azione dell'individuo e non l'azione della massa. Nichilismo, distruzione completa, totale, bombe, diventa un fenomeno, un fenomeno terrorista per combattere sempre il potere, ma non c'è più neanche un rapporto con il popolo, con la gente. Altri campi invece, altri settori del populismo finiranno per riclassificarsi dentro le strutture partifiche tradizionali, l'importazione occidentale per altro. E nascerà quindi quel partito socialista rivoluzionario che in qualche modo è un po' una sorta di trade union tra la cultura occidentale e la tradizione populista russa classica, ma siamo già nel Novecento. Un altro esempio invece di populismo, a noi più vicino, è il populismo francese. E qui bisogna parlare anche di una Francia che non ha mai risolto il proprio problema tra la Francia repubblicana e la Francia che potremmo definire bianca. La Francia blu e la Francia bianca. I bleu e le blanc si combattevano in bandea dai tempi della Convenzione. Le ultime lotte della Repubblica francese non sono più neanche lotte repubblicane in bandea, ma sono lotte consularie e persino imperiali. Napoleone deve ancora non andare a sedare le rivolte bianche quando ormai è stato già proclamato console. Il primo console sta diventando imperatore. La Francia quindi subisce già negli anni della rivoluzione una vera e propria guerra civile tra la Francia dei immortali principi, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma anche la Francia del terrore, la Francia di Robespierre, e dall'altra parte la Francia turbolica, cattolica, tradizionalista cattolica, legata a un rapporto diretto tra popolo e principe. Per cui ecco che la Roche-Foucault piuttosto che Chateau-Goyant sono tutti dei grandi eroi della resistenza vandeana e sono tutti dei nobili che guidano queste trutte composte da contadini con i porconi, ma anche con i dati lungi, che attaccano gli esponenti della Convenzione e i rappresentanti della Francia blu, della Francia repubblicana. Parlo di questi due colori perché i soldati della Repubblica avevano un riforme blu e solente invece questi vandeani tendevano a innalzare lo stendardo bianco con i giri della passata monarchia borbonica. Questo fenomeno prosegue e questo braccio di ferro tra le due Francia proseguirà per tutto l'Ottocento e giungerà fino al Novecento, esattamente con le trasformazioni e si potrebbe dire che la risultante di questa lunga diciamo vicenda della Francia vandeana e bianca sarà l'Action Française di Chalmurrat, che è questo signore qua in mezzo, il quale comincia a elaborare un populismo novecentesco e un rapporto diretto tra lui e il popolo con gli slogan anche ben conoscete, sono tutti ladri, bisognerebbe chiudere l'Assemblea nazionale, vanno tutti mandati in galera, si tratta di una banda di venduti agli stranieri, sovente si tratta anche di una banda di ebrei, l'antisemitismo è molto diffuso, gli ebrei vengono visti come nemici del popolo perché non vengono percepiti come membri della comunità nazionale principalmente, anche solo per i cognomi che spesso portano, che sono cognomi come dire ibridi. Ed ecco che allora questo movimento è un altro esempio di rapporto diretto antipolitico, cioè contrario alla cosiddetta politizia dei francesi, che dura e perdurerà per tutti gli anni 20 e 30 dopo la prima guerra mondiale fino a giungere appunto a Vichy, che è un po' la quintessenza come avete visto del populismo applicato. È un esempio diverso da altri populismi, perché è un populismo in parte che riesce, non tutti i populismi vanno al potere, e in parte perché si naturalmente compenetra con movimenti dell'estrema destra e gruppi più convintamente legati ad esempio al fascismo se non addirittura al nazismo. Questa è una foto divertente, mi piacerebbe. è una protesta contro dei politici new yorkesi, infatti questa bella signora un po' volgarotta insomma, scrive cose buon cari. Ma il populismo americano, adesso ho messo proprio l'immagine più negativa, in realtà è un fenomeno storico molto profondo e molto ampico. Il People's Party si forma intorno al 1880 negli Stati Uniti, già prima c'erano dei movimenti di questo tipo. È un movimento particolare, detto anche dei farmers, quindi dei piccoli proprietari. Nasce dai tempi del Far West lo scontro tra allevatori e piccoli contadini, è uno scontro fondamentale, una vera e propria guerra civile poco nota, tutti pensiamo alla guerra civile intendendo come essere la guerra di secessione, ma ci fu una lunga guerra civile all'epoca della conquista dell'Ovest, che vive con trafossi distanziali agli allevatori. Da un lato i contadini, dall'altra parte questi allevatori che ovviamente hanno tutt'altro obiettivi circa il patrimonio agricolo, lo usavano come pasto, non come terra a coltivare. Questi farmers, un po' per questo rapporto con gli allevatori conflittuali, un po' per la loro stessa lotta per la sopravvivenza, combattendo gli indiani, cioè pelle rosse, cioè i nativi americani, come si deve chiamare adesso questo o quel popolo, un po' per motivi legati anche a un ordine pubblico che come sappiamo dai film western è piuttosto latente, si ritrovano a essere autosufficienti, a costituire delle vere e proprie comunità, comunità che si allontanano sempre più dallo spirito originario del 1776, dallo spirito di Jefferson, dallo spirito di Franklin, dallo spirito dei padri pellegrini, considerati da loro come degli europei trasferiti per caso negli Stati Uniti, in realtà loro formano e si formano come elemento alternativo al potere di Washington. Il People's Party diventa anche il banditolo populista, che si chiama così proprio perché si ispira al populismo russo come nome, diventa un movimento politico che poi si estinguerà ai primi del Novecento, ma che lascerà molte tracce e che avrà come obiettivo quello di mettere in discussione i poteri forti di Washington o di New York, i banchieri, i finanzieri, un grande populista americano, diventa Presidente degli Stati Uniti e Theodore Teddy Roosevelt, formerà anche un partito che verrà chiamato un riformista, ma in realtà un riformatore, ma in realtà è un partito che uscirà dal suo partito di riferimento, che era Repubblicano, che diventa appunto un riformatore della realtà populista e lui condurrà una lunghissima battaglia contro J.P. Morgan, il grande finanziere. Prima di lui i Presidenti altrettanto legati a questi principi populisti cercheranno di combattere con la Sherman Act, quindi con la legge Sherman, in tutti i monopoli. L'obiettivo era quello di evitare che si formassero gruppi dirigenti, soprattutto a livello economico, che potressero strangolare l'economia locale, l'economia anche dei piccoli proprietari, dei piccoli risparmiatori. Da lì il passo successivo è una trasformazione di tipo quasi genetico di questo populismo che diventa in qualche modo contrario a tutto l'ordinamento federale. Per cui tutto ciò che c'è a Washington è il male. È il male anche perché è supportato e sostenuto, si vede dagli risultati elettronali, da queste due fette di pane che nascondono la fetta di hamburger che è la vera America. Le fette di pane sono la California, la costa occidentale e la costa orientale, New York e tutti gli stati fondatori. Roba troppo europea o troppo pacifico nipponica per non parlare del discorso della cultura proprio estremamente legata ai diritti civili che rappresenta queste cose. No, è al centro degli Stati Uniti, è quella parte che nessuno conosce al di là degli storici e degli analisti degli Stati Uniti, che è quel Midwest, che rappresenta la vera cultura americano presunta tale. Noi siamo i veri americani, noi siamo gli eredi dei pionieri, noi siamo quelli che hanno fatto grande questo paese. Non lo Zog, lo Zionist Occupation Government, che è il governo di occupazione sionista. Capite che dal populismo dei farmers dell'Ottocento attraverso tutta una serie di passaggi si passa ai populismi dei presidenti del terzo partito, come cerca di fare dopo il mandato di nuovo per riproporsi Teddy Roosevelt, fino a giungere poi dopo Wilson e dopo i presidenti repubblicani a Roosevelt e a grande scontro tra Roosevelt e i populisti. Andate a vedere sui libri di storia e scoprirete che i nemici di Roosevelt, quando vi elencano i nemici di Roosevelt, scoprite che i nemici erano anche i movimenti populisti degli anni 30, che ragionavano già in questo modo, contro il socialista di Washington, contro il venduto agli ebrei di Washington, contro il venduto ai poteri forti di Washington, contro Roosevelt, Townsend, Cowling, l'abate Cowling, il governatore Eilang della Louisiana, doveste studiare la figura di Eilang, guardatevi il film Tutti gli uomini del re, che è un antico, un film piuttosto vecchiotto, ma che è molto meglio da vedere, ed è la storia proprio di questo governatore della Louisiana che diventa per negli anni 30, crea una dinastia, perché poi anche suo fratello diventerà governatore, e crea davvero un rapporto diretto con il popolo, prescindendo da ogni organismo intermedio e avendo come scopo l'attacco a Roosevelt e al suo mobilismo. Persino gli antifascisti americani, gli italiani emigrati in America nell'anni 30, avvertiranno a Roosevelt del pericolo di Eilang, che poi invece viene ammazzato e quindi non c'è pericolo. Però ecco, tanto per intenderci, ed è una forma, a questo populismo che giunge fino ai giorni nostri. I Minutemen, le cosiddette milizie che si formano in alcuni stati del centro degli Stati Uniti, in particolar modo, o addirittura nel Texas, che è la quintessenza del populismo, sono di fatto gli eredi di questo e ovviamente oggi hanno come obiettivo quello che per loro è un po' una specie di Disneyland del nemico, perché c'è tutto lì, Obama che è nero, che è di Washington, che parla un inglese troppo perfetto per essere un americano, che peraltro si sospetta avere origini islamiche sicuramente che mi note, figuratevi, è tutto ciò che gli manca proprio di essere ebreo, cosa che non è, visto che non è molto amico degli Israele. Proprio tutto il resto è tutto quello che può servire al populismo per individuare il nemico e per nato mettere un rapporto diretto con un popolo che oltretutto, non dimentichiamocelo, questo è un grande agliato del populismo che è stato colpito negli anni scorsi da pesantissime crisi economiche, perché questo è un elemento da ricordare, il populismo sta alle crisi economiche come un fiore può stare in una palle indeperenemente irrigata. Andiamo alla conclusione, appena posso, che qui senza la mia macchinetta non... naturalmente abbiamo già parlato e ne parlerò poi io, presumo, non so chi ne parla, parlo io proprio degli strumenti di populismo sotto il fascismo. Ecco, il populismo sudamericano fenomeno che ho accennato, fenomeno importante, qua i rapporti col popolo sono immediati, sono diretti, come ho detto le tasse dirigenti precedenti fossero dittature militari, gruppi dirigenti di tipo legato alle tradizioni liberali eccetera, arrivano spazzate via da queste figure forti che hanno alcuni nomi, appunto Lapra per quanto riguarda il Perù, ma anche Gertullio Vargas per quanto riguarda il Brasile. Il gertullismo è un fenomeno molto importante, un presidente dittatore che guida il Brasile per quasi vent'anni e che di fatto esclude qualsiasi altro interlocutore, ovviamente le classi dirigenti che lo appoggiano stanno ben... evitano di... intervenire per lasciare che sia lui a risposta, perché poi il dittatore, il populista non è stupido, sa che non può cancellare tutti i vecchi e le vecchie classi dirigenti, basta solo cammuffarli. L'importante è che ci sia lui e poi che dietro ci siano ancora i vecchi poteri, non fa niente, serve a lui, serve all'establishment in generale, ma il popolo deve rendersi conto che lui li ha cacciati o li ha messi comunque in una condizione di non nuocere. Molte volte Vargas diceva attraverso di me, io con me, voi avete avuto come regalo e aver messo a tacere quelli che vi facevano, vi sfruttavano. Io ho disattivato questi sfruttatori, io tra l'ascoltamento ho continuato a esserci in Brasile. E poi gli altri personaggi, per gli altri, però, che li ho citati. Charles, i tempi più recenti, guardate bene, il populismo non è un fenomeno che deve per forza di cosa finire a destra. Fidel Castro, per molti aspetti, ha ricordato esperienze populiste. Negli anni successivi, le fasi rivoluzionarie dove Cere ha permeato il tutto ancora da un clima di grande livellione al vecchio dittatore Battista, ha il controllo da parte degli americani e persino di Cosa Nostra dell'isola, poi quando le cose hanno cominciato a prendere un verso negativo per la piccola repubblica socialista cubana, negli anni del declino del grande e potente alleato sovietico e poi della scomparsa del medesimo, è risolto un forte ragionamento populista. Per cercare di mantenere alto il consenso e Castro cercò di diventare, e per molto tempo c'è anche riuscito, interlocutore diretto. Molto spesso si parlava del caudillo Castro, utilizzando lo stesso termine con cui di solito si chiamavano i dittatori di destra. Dunque, il populismo è un fenomeno importante che rinasce in modo, dopo un periodo di grande assenza, coincidente più o meno con la falluta del muro di Berlino nel continente sudamericano, soprattutto con Ciavez, che è stato il rifondatore della scuola populista per eccellenza. Maduro, che è il suo successore, in qualche modo dovrebbe ereditare tutto questo, ma mi sembra di cogliere in lui una prassi assai più brutale e meno intelligente di Ciavez, che brutale era lo stesso, ma sarebbe anche essere un po' più attento. Ciavez rischia, e Maduro rischia di essere disarcionato, credo. E il populismo oggi? Il populismo oggi, vabbè, questa è una cartina abbastanza, dove sono elencati un po' di movimenti populisti di vario genere. Attenzione, c'è un populismo molto legato all'estrema destra, o comunque originato da destra, come può essere i fondi nazionali in Francia. Ci sono populismi più legati alla tradizione localista, anche se ultimamente la Lega Nord, come nel caso italiano, si è trasformata da un movimento localista o comunque autonomista in un movimento sempre più vicino alle istanze lepeniste, quindi un movimento nazionale, questo è l'obiettivo del nuovo segretario federale del partito, un movimento nazionale non più concentrato solo a Nord, che in qualche modo dovrebbe rappresentare le stesse istanze dei francesi. Poi ci sono gli inglesi, questi giocano, ovvero siano il partito United Kingdom United Kingdom, che è un partito con i francesi che in qualche modo basa, ma anche gli altri, la propria forza e la propria fortuna sull'essere contrario all'Europa, perlomeno a quella di Maastricht e a quella di Schengen. Attenzione, gioca in casa e gioca bene, perché già la Gran Bretagna ha in luce tutta una serie di ostilità verso l'Europa Unita. Attenzione è che oltre alla crisi un humus che sta mettendo insieme tutti i populismi è proprio questo rapporto, e pensateci bene, rapporto non tanto con l'idea d'Europa, perché non è l'idea d'Europa in sé che non viene accettata. Non si confonda, il populista non fa ragionamenti legati a particolari difese dell'interesse nazionale. Quello che mette in discussione è la burocrazia europea, il governo europeo, i ciechi dominanti europei, sono questi i nemici del populismo e sono quelli che possono scatenare nel modo più facile il consenso. Quando parliamo di Troica abbiamo già in qualche modo individuato tre nemici che rappresentano i tre poteri forti dell'Europa. È su quello che si basa la crisi e se vogliamo anche qua un errore compiuto dalle classi politiche europee nell'avere sottovalutato il fenomeno e forse avere anche sottovalutato la pazienza dei popoli europei che si aspettavano un'Europa unita politicamente con magari una politica estera comune, magari un esercito comune che avrebbe potuto forse risolvere alcuni problemi in casa e fuori casa più facilmente rispetto al gendarme del mondo che sono gli Stati Uniti. Invece si è ritrovata più delle volte soltanto un leviatano che produce leggi limitative, chiede sforzi finanziari notevoli, aumenta i prezzi attraverso la produzione dell'euro, tutte cose che hanno un loro senso ma che forse se pilotate meglio, se gestite meglio avrebbero potuto evitare una reazione di questo tipo, un fenomeno molto vasto che ve l'ha affrontato prossimamente. Sì qua abbiamo fatto questa, ecco vedete, politici banca, due colonne che dovrebbero tenere insieme a una terza il Tempio dello Stato, in realtà l'unico che tiene in piedi lo Stato è il cittadino stesso, questa è la tipica migneta populista direi, la banca che gli sta spinando i soldi e il politico sta dormendo sulla pancia del cittadino per intenderci. Sì può essere criticato, può essere apprezzato secondo dei punti di vista. Ultimissima cosa, poi vi lascio alle domande e mi fermo perché ho parlato fin troppo. questo è il quadro simiotico del populismo che ho recuperato, è divertente, ci si potrebbe studiare a lungo su questo quadro. Al centro abbiamo il populismo, populismo che ha come diciamo collegamenti da un lato l'individuo, vedete, dall'altra parte la comunità, in qualche modo il populismo è una via di mezzo tra umori femmini, parla alla massa ma cerca anche di stanare, scoprire, difendere gli interessi dei cittadini. Io sono come te, io la penso come te, il populista dei mancocchi quest'evo dice la penso come volete voi, ma quello è quasi un bufone, non lo può dire, deve comunque far capire che quello che lui pensa è lo stesso. Quindi è chiaro che io faccio gli interessi tuoi caro cittadino, tuoi, e facendo gli interessi tuoi che sono simili a quelli suoi e suoi e suoi, faccio gli interessi di tutta la comunità, ma attenzione, non diventate una massa di pecore, siete degli individui dentro una massa. Questo almeno è il messaggio del politico populista. Quindi come vedete giustamente il quadrato semiotico ci pone il populismo al centro di un rapporto tra la comunità, la collettività in qualche modo caratterizzata culturalmente, politicamente, anche etnicamente e l'individuo. Ovviamente questo rapporto orizzontale, a questo rapporto orizzontale, corrisponde anche un rapporto verticale. Da un lato c'è, chiamiamola, l'ideologia populista e quindi in qualche modo i programmi di massima. Dall'altra parte l'azione governativa, anche poi il populista deve mettersi in mezzo se vuole diventare forza politica. Non può essere pure puro e essere sempre fuori dalle cose. E' la critica di molti di linea Grillo, il fatto che ci siano diverse secessioni all'interno del Movimento 5 Stelle, con molti che escono, è perché a un certo punto contestano a Grillo il mantenere una propria purezza da mantina. Ovviamente ci sono altri che invece dicono fai bene, vai avanti così, dobbiamo raggiungere il 51% prima di andare al governo. Lui ha detto che vuole arrivare al 100%, ma insomma adesso diamo lì. Le progliezze sono infinite, ma penso che già sul 51 potrebbe già contentarsi. Ma altri dicono no, tu devi invece già da adesso, per esempio, sederti al tavolo delle riforme, per evitare che le riforme possano essere fatte sulla nostra testa. Grillo, da un lato lo capisco e lo dobbiamo capire, perché si rende conto che così facendo, sedendosi al tavolo delle riforme, si ritrova immediatamente ad essere una forza politica come le altre. Ma questo è il problema dei populisti, generalmente parlando, non un legato a Grillo ovviamente. Ovvero sia che il loro destino presto tale è quello di tenere al governo e quindi è quello di compiere delle scelte che vanno un po' con, non contro, ma si allontanano dall'ideologia. Tsipras in Grecia, che è andato al potere anche su un'onda populista, perché è andato al potere contrapponendosi a tutta la classe politica peraltro valimentare precedente e mantenendo però almeno una barra politica un po' più netta perché ha fatto distinzioni rispetto almeno a un ambito più estremo, anche se non ha avuto problemi ad allearsi con un partito di estrema destra che ha il potere insieme a Tsipras, che sono i greci indipendenti. Ha lasciato fuori i nazisti che sono impresentabili ma si è tenuto dentro quelli che sono insomma grossomodo dei nazionalisti estremi. Tsipras lo dobbiamo vedere in questi giorni, ricerà attentamente i giornali per capire fino a che punto potrà porre la pallina più su questo, verso questa parte o scendere più da questa parte. Realismo o ideologia? Programma adamantino o diciamo, come dire, regole del gioco da correggere, rimane? Insomma populismo o riformismo? Alla fine stiamo lì. Ecco, queste sono diciamo, questi sono gli grandi estremi del populismo, individuo, comunità, essere parte della comunità ma sapere riconoscere l'individuo e guardate che prima ho fatto un discorso in positivo, individui, membri della comunità, ma la cosa può diventare complessa, può diventare contraddittoria, è la prima contraddizione. Se il mio riferimento populista mi difende non è detto che debba difendere tutti, prima o poi devo fare sugli interessi miei, cioè della mia classe, del mio settore. Non posso difendere contemporaneamente da populista gli interessi dell'impiegato statale che magari ha delle prevende che non posso toccare ma che mi vota e al contempo gli interessi di colui che paga le tasse, che paga le tasse anche per quell'impiegato statale. Se vado al potere garantendo al secondo che gli abbasso le tasse, devo togliere lo stipendio all'impiegato statale, che però abbia votato lo stesso. Ecco, capite la differenza, il problema, la forbice tra individuo e comunità nel populismo, che non posso dare ragione a tutti, perché se lo faccio poi alla fine vado in contraddizione. E la stessa contraddizione abbiamo a livello verticale. Mentre per quanto riguarda degli esempi di come applicare, o meglio come si declina poi il messaggio populista, qua sono segnati alcuni esempi, questo non l'ho scritto io, quindi insomma, prendete la quale pinza, il populista non è un termine negativo o positivo, è un termine neutro, quindi non è un strategico, ci sono nomi di tutti i tipi. Ad esempio, più legato al concetto di, nell'area qua ha scritto decisione e quindi diciamo, ciò che fa la fortuna di questi leader che vengono a torto ragione avvicinati al populismo è soprattutto il fatto di essere, di avere in qualche modo le ricette, di sapere risolvere il problema e di farlo in modo molto rapido, o diciamo, di promettere di farlo in modo molto rapido, mettiamo la cosa che fosse meno. Per cui, chiaro non hanno letto tutti i trattati di scienza politica, perché la prima cosa che si fa quando si entra in politica è non promettere mai niente che non possa mantenere, e ancora di più non fare calendari, non fare calendari, non dire alla gente io il 18 di aprile faccio questa riforma, il 20 faccio quest'altra, il 21 quest'altra, poi qualcuno se la punta, poi ti telefona e mi dice scusa, siamo al 19, non hai ancora fatto la prima, questi sono argomenti un po' dedicati, tuttavia, quello che voglio far contare è che sia la Repenne che Farage, cioè il capo della Farage, il capo dell'Ukip, del partito indipendente del Regno Unito, che è anche Matteo Lorenziano, che però è distinto, è distante da questi altri due, sia per motivi politici, sia perché il suo populismo è mediato, molto mediato rispetto agli altri due che sguazano del populismo, eppure tutti sono caratterizzati soprattutto dal concetto di decisione, quindi cercare di dare il segnale al popolo di essere capaci di risolvere il problema e di farlo in fretta. Opinione, e qui invece abbiamo Grillo e Berlusconi, perché entrambi sono dei populisti o dei presunti populisti che legano la loro fortuna su ragionamenti di ampio respiro. Certo, elencano tutta una serie, soprattutto prima delle elezioni, una serie di ricette anche loro, ma il più delle volte attirano l'attenzione più per una scelta, diciamo, di protesta, o come nel caso di Grillo, o un'alternativa a qualcosa che non si vuole votare, come nel caso di Berlusconi. Molti votano Berlusconi non hanno voluto votare di là, in quanto di là erano considerati comunisti, oppure partitocrazia, eccetera. Una scelta più d'opinione che di programma, perché non venitevi a dire che si vota Grillo per un programma specifico, o si vota Berlusconi per un programma, chi ha mai eletto un programma di Berlusconi? A parte che ci sono stati anche degli sbagli, hanno messo insieme dei programmi sulle regionali, hanno parlato dei laghi della Sardegna, era il programma della Lombardia, vabbè, però direttamente perché non li leggeva nessuno. Ma attenzione, non che Berlusconi e Sopadino non abbiano delle idee ben chiare, ce le hanno, le hanno anche applicate, è un partito, è una forza politica indiscutibilmente moderata del centro-destra, ma il programma specifico su questioni quali la scuola, quali l'ambiente, quali l'occupazione anche, sono spesso cose che non vengono analizzate dal lettore e dall'elettore. E lo stesso per Grillo, il voto è un voto più d'opinione che viene dato a queste forze politiche. Ci siamo? Finito. E poi abbiamo da una parte, vabbè, chiaramente l'estrema che è la rivoluzione, che però non ha dei riferimenti diretti in Italia, non c'è un populista che vuole ribaldare tutto con la forza, con una violenza diretta. E infine, l'ultima cosa, devo farvi andare via prima, non ce l'ho fatta, scusiamo. L'ultima cosa è l'ordine, cioè cercare di ridare, e questo è in qualche modo il voto che è stato dato per molto tempo a Bossi, e più in generale la Lega Nord, un partito che ragiona in termini populisti e cerca di dare, comunque con le virgolette, e cerca di dare una risposta soprattutto per quanto riguarda un riordinamento del sistema per dare maggiore sicurezza, per dare maggiore garanzie a determinati gruppi di riferimento, e quindi diciamo è una scelta più quasi sociale che una scelta di tipo politico. Intorno a questo quadro abbiamo i quattro angoli che rappresentano in qualche modo il movimento populista, liderismo, nazione, classe e media. Questi sono i quattro angoli in realtà in gioco delle tre carte, ma comunque facciamo vita che sia in gioco delle quattro carte, sono i quattro angoli che vengono in qualche modo mescolate e presentate agli elettori e la bisogna. Soprattutto i media possono diventare un elemento straordinario, questi sono gli strumenti principali, come ho detto, per la comunicazione. Ragazzi, ho concluso, scusate la lungaggine, sono state informazioni che hanno soltanto l'obiettivo di darvi, come dire, una traccia sulla quale poi sicuramente, meglio di me, il dottor Elia Rosati e chi interverrà e che è stato elencato potrà approfondire. Vi ringrazio, buon lavoro e buon studio.